Fabrizio D'Abbuno sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio D'Abbuno sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. 1RGK 539 sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio D'Abbuno ha effettuato un ride. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. 1RGK 539 ha effettuato un ride. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio D'Abb2 ha effettuato un ride. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il gioco Resident Evil 7 Biohazard nel format soft horror. Oggi andiamo avanti con il gioco. Ciao a tutti. Benvenuti al nostro randèvouro con Resident Evil 7 Biohazard. Oggi andiamo avanti con la nostra avventura su questo meraviglioso gioco. Ciao a tutti. Benvenuti al nostro randèvou con la diretta del gioco Resident Evil 7. in il nuovo formato soft gaming e soft horror. Oggi andiamo avanti con la nostra avventura. Oggi andiamo fare un po' di cose. Ok. Si è frizzata la webcam. Ok mi sembra che scatta un pochettino stasera. Ok allora. Detto questo. Allora facciamo così. Allora un attimo solo. Just a moment. I will try to find a solution for this problem. Vi chiedo un attimo di pazienza. Il tempo di vedere se riesco a risolvere il problema per quanto riguarda la webcam. e poi partiamo subito per la nostra avventura. Sembrerebbe andare bene. Ok. Now let's start. Let's go. Andiamo. Un saluto a tutti. E benvenuti all'appuntamento settimanale con soft horror. Questo nuovo format sperimentale. Ok. Allora. Andiamo. Ne vedremo delle belle. Allora. Allora. Apri la porta con l'agenda. Ora si risparò. Ah ok 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 ok. Allora. Ricordo che. Perfetto. Allora ricordo che. Stavo cercando. I cavi. Per riparare la censura. Now we have to find the cable. To patch. Patch the. The lift. Ok. And the. They should be. And on the. latest. Stare. Stage. e i cavi si trovano all'ultimo piano ok quindi credo di aver capito cosa devo fare le file può riparare l'ascensore si trova au dernier etage dalla cabine di pilotage allora si qua we have to find two kibos e capolo kibos donc les cables pour riparer l'ascensore si trova au dernier etage ça doit être là allora diamo un attimo allora sala di controllo allora aspetta apri la porta con l'agenda corrosiva ok c'era una porta che non ho aperto i missed a wall sorry a door i will use corrosive agent liquid allora dovrebbe essere qua e qui dovrei trovare ok anzi quasi quasi allora l'agenda corrosiva apri la porta ok forse questa la porta exit allora diamo un attimo allora dovrebbe essere l'ultimo livello punta eccolo qua ok quindi ok devo arrivare a livello superiore quindi arrivo al terzo piano credo è forse qua che bisogna aprire la porta mesi io ero qui dovrebbe essere quella la porta ok la qua qua no 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 ecco l'alavorone I will give you a suggest, he will suggest you what to do. Ok, voi dov'è scrivere il menu che va a vu' dire ce che voi dov'è fare. Allora, qui dovrei trovare anche, ecco lì, i cavi sono lì, le cavi sono lì, le cavi sono lì, i fili sono lì, però prima di fare questo, esatto questo, vediamo un po' cosa possiamo produrre. Ok, abbiamo prodotto altri proiettili, allora andiamo di qua, bring everything here, prenez tout ce que vous allez trouver sur votre chemin, e ovviamente più a tutti quelli che ho trovato. Mostriciattolen, fammi prendere ste cose tranquillamente. Dai, 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 dai. Eccolo qua, mostriciattolen. Ahiaiaiai, ha mangiato pesante. Ahiaiai, ha. oh la la ha mangiato pesante l'amico e qua ok a mangiato pesante o un baril il ha mangiato e c'è per sa qu'il faite tous ces bruits avec la bouche la bouche nanana 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 e dove dobbiamo andare ripara la scensura ok voilà la vedo molto molto difficile ok va bene allora adesso che cosa ci dice qua vai al livello più basso e salva ethan ok ok i have to reach the the lowest stage giusto vai al livello più basso ok e salva ethan ok 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 e lui qui lui qui è who is who is who is who is waiting qui oh la la allora now we will place the bomb here e boom oh la la oh no no mannaggia ma fregata no va bene ok e ora ci dobbiamo fare tutto ok ok qui impara che non già sta più niente mamma roga oh cacchio ah fringue l'accia fringue l'accia e qua sono rimaste senza proiette lei o munizione per mitragliatrice perfetto mamma roga armana oh cacchio ottimo ok allora vieni 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 fringuellone vieni vieni come here splash 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 f f ok oh cacchio oh cacchio oh cacchio vieni vieni fringuellone come here pscht 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 boom po vieni fringelle ma qui stanno ancora e se a morire vieni moro garanto oh cacchio Vieni, 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 vieni si oh boom ma tu guarda sto vedendo ancora oui oui c'est pourquoi j'ai dit sempre bring everything you will find on your path prenez toujours tout l'armamentaire que vous allez trouver si vous voulez pas si vous voulez chemin ah e tu mi hai fatto via oi questa ma c'è stata la poluzione qua ok vabbè lei si lamenta era giusto per capire allora vediamo qua cosa c'è oh ok facciamolo si chiudiamo la porta altrimenti qua ci fanno la festa ok poi c'è qualche altra cosa qua mi sembra di no ok dai dai andiamo ah evelyn ho bisogno che tu faccia una cosa per me che cosa no ah libera libera etan 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 chi è etan 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 shhh lo so lo so lo so non ti farò male ah te ne avrei mai fatto se avessi potuto nooo che vuoi dire non sono un maniaco e non lo so nemmeno margherito o un piccolo lucas tu sei pazzo you are crazy e nemmeno zoi was that fool è colpa sua che cosa diavolo è cosa vi ha fatto ci ha infettati con il suo dono è così che lo chiama l'ho trovata tra i rottami di manave nel bagliù poi tutto è cambiato ti infetta e controlla le tue azioni nooo non proprio figliolo lei penetra dentro la tua mente nella tua anima non puoi oppurti lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di sì ti trasformi in qualcosa di diverso come con Mia mi ha contattato perché spinta da Evelyn ascoltami quella ragazzina vuole una famiglia certo Evelyn tu devi trovarla e fermarla e fermarla Ethan dimmi di te devi liberarci ti prego va bene ok ok stai lontano da lui perché lui non ti ama non è vero non fargli del male se l'ho detto non ho intenzione di fargli del male non osare altrimenti non sai mia mamma ricordalo ecco là ecco là ecco là non c'è tempo tieni prendi questo cos'è questo non riuscirò a resistere un giallo si oh 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 ho rot uccidila 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 stai carmisciti 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 questo è proprio dove stai? scusa cara non si fa non si fa ahia no tutto questo per niente tutto questo per niente tutto questo per niente ma guarda un po' allora ok questo sta messo molto male ui ma qua non si apre la porta questa si muove vediamo un po' che dice sconfiggi Evelyn quindi Evelyn sta da queste parti qua ok forse l'hai chiusa ah ecco qua ui non si dicono le parolacce ma guarda un po' che sto scornacchiato allora si passa da lì qui non ci sta niente ok quindi da qui ci abbassiamo ui ui che è sto rumore è tutta colpa tua eh immagina ok ah ok ok e qua e qua e qua e qua carissimo maestro bentornato in live quale onore grande onore per me per te qui qua stasera ci stiamo facendo un po' di un po' di soft horror qua ma questa è una scavalca ok scusami spero che tu non sia entrato che tu non abbia scritto da parecchio tempo il messaggio che io ti abbia risposto con notevole ritardo qua praticamente con sto gioco qua si esce pazzi ok allora e qua mi sei andato a fare tutto da capo allora ok c'è stata una frana la miniera di Patterson tua e back back for ci sono rimasti i secchi i axley non si reggerà mai più in piedi il vecchio stennus aveva ragione il terreno era troppo instabile non si reggerà più in piedi la società non vuole mandarci dei rimpiazzi ci toccherà fare doppi turni ok qui abbiamo la mitica radio elicottero ci osserva l'elicottero allora le compresse queste non ci servono allora ecco l'ho già granate ok ma questo ce n'è uno solo allora dai un po' non hai ottenuto gli oggetti di mia cioè allora andiamo un po' ascia giocattola no no ok quindi devo rendere le cose allora no manco ciò allora salviamo perché qua ho la vaga in pressione ora succedo un burdello facciamo la chiamata radio break break qui bravo 1 mi ricevi qui alfa 1 fate rapporto trovato niente nella proprietà dei baker risultano 0 sopravvissuti ripeto 0 sopravvissuti riscontrati segni di lotta negativo tuttavia abbiamo recuperato diversi messaggi del figlio lucas a persone non identificate lei immaginerà già di chi si tratta addio vacanze il rapporto risulta nelle miniere abbandonate al sud mi sto recando lì ricevuto la raggiungeremo a queste coordinate se trovate evelyn sparate per uccidere ripeto sparate per uccidere cazzo fatta è serio ma hai capito è perché questa che ti dice ship lab ok e mo devo uscire per forza di qua sperando di trovare non sorprese allora qua non c'è niente spero di non trovare alcune sorprese no manca l'erba l'erba medica come siamo qua ho bisogno di un altro oh oh cazzo cosa è rimasto mannaggia io cosa è rimasto senza niente manca il pugnale e qua sto nella cacchina sto ma va veramente nella cacchina sto asciaggio gatto bruciatore ah ecco qua munizioni per pistola perfetto fucile perché non me la da ok coltello moneta ecco qua così posso sbloccare allora io direi che le chiavi tornano sempre utili poi allora che altro c'è io direi di prendere polvere da sparo ah non ho più spazio qua che cosa ah questo è giusto polvere da sparo gente separatore vediamo un po' se mi fa fare qualche altra cosa soluzione medica forte aspetta però allora ok perfetto allora andiamo let's go now we have everything già sono qua avevo intenzione di piazzarci una bella fattoria solo che ci sono queste grandi zanzare qua che che mangiano tutti qua questi oh ok c'è la miseria ci è mancato un velo c'è la miseria fluido forte eccolo qua ok 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 allora mitragliatrici non ci servono i proiettili per mitragliatrici per il momento combustibile nemmeno vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa ok ok allora per il momento questo non ce lo fa prendere perché non abbiamo slot liberi però posso liberare una slot volendo il lanciarazzi questo per esempio lanciagranate lo vado lo vado a posare lanciagranate una granata c'è vivo e direi di liberare un po' di spazio io ho dovuto ho avuto il slot per portare e prendere di other cose allora questo lo possiamo perfetto ok e andiamo e j'ai dû livrer un slot perchè non potevo prendere la soluzione chimica ok perfetto oh proprio perfetto non so quanto perfetto comunque qua sembra tutto apposta jason ci sei dopo andiamo a fare un po' di compagnia andiamo nel canale della zappa storta si non è ecco qua ci sono le famose trappoline boom boom allora dovrebbero essere ecco qua ok questa azione forte ok mi sembra io penso che io ho ah no non le ho fatte saltare tutte eh munizioni per mitragliatrici ma è quella mitragliatrice ma è che ma è la mia ma è la mia scusa ma è la mia ma è la mia realmente sotto. Io sono disolato per il pitch, ma guardiamo un po' di pezzi. Cosa c'è questo? allora le bombe qua ci servono ok liberiamo lo slot qua vediamo un po allora direi ah ho creato questa e cosa dovrei lasciare le monete ah queste non mi servono ok mi servono queste qua invece allora fammi dare un'occhiata di qua ok munizioni mg ok no noi abbiamo allora qui ci siamo passati e adesso ci dobbiamo guardare sempre le spalle perché questi ok ok ecco l'arri Cosa? dobbiamo andare lì l'arma prima, e a volte troviamo qualcosa, qua non si passa ok, ricordate sempre di controllare ovunque, perché troverete cose e ricordate sempre di essere alerta no, che ho fatto? cia miseria munizioni per mitragliatrici, che cosa sono queste? munizioni per pistola, munizioni per pistola potenziate per pistola, ok per mitragliatrici non ci servono teniamolo, non si può mai sapere stavo pensando se prenderò se prenderò il the machine gun weapon at the moment i will allora qua grazie a voi sono riuscito a resettare il cervello e a tornare alla normalità e le pensa ancora di avermi in pugno dovete fare qualcosa ragazzi non solo all'aspetto di una mocciosa ma anche stupida come una mocciosa mi dissocio mamma e papà invece sono del tutto fuori ditemi un po' questa cosa della famiglia glielo avete programmata voi in qualche modo? è strano forte dice quella di mia è ancora sospesa tra il mondo fatato di evi e la realtà a volte diventa molto violento e ho dovuto rinchiuderla in una cella credevo che evelyn sarebbe andata su tutte le furie visto che mia è la sua preferita ma non sempre gliene importi molto a volte però va a trovarla crede che mia sia la sua mammina come ho detto la vostra arma biologica è completamente fuori di testa quindi la bimba è un'arma biologica poi l'ossessione della famiglia di evelyn sta superando ogni limite sta facendo sparire sempre più gente dalle strade per involtire i ranghi di quella sua pseudo famiglia forse si sta stufando di mia ancora sulle sue ma è una rottura di per me che devo pulire il casino quando qualcuno di nuovo viene portato qui a proposito evi non sembra essere in gran forma la sua pelle si sta riempiando di rughe e i capelli stanno ingrigendo era qualcosa di previsto sembra che stia invecchiando tutto d'un colpo allora vediamo un po' non si può combinare allora arriva da sto puntio questo libero uno slot andiamo un po' ok adesso andiamo di qua ho solo quattro proiettili quindi mi conviene ho solo quattro proiettili ho solo quattro proiettili apri grazie allora adesso qua dobbiamo mettere questo e dovrebbe darci non ricordo che cosa ecco qua necrotossina perfetto ok ok allora qui mi sembra di aver visto tutto ok 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 una bella sprite ehi questa non riesce a salire le scale questa è tutta roba del dna ok mi sembra di aver preso tutto ok maybe you have to remember that you have to use the small glass content for unlocking the necrotossine o voi deve usare la la ma per la necrotossina allora qui ci che poi se posso e allora quasi quasi lascerei le monete si a will drop domani uno slot torna sempre utile solo sei ok allora controlliamo qua no cos'è funzione per pistola ottimo pistol ammunition e boh questi tornano sempre utili vediamo se possiamo fare qualcosa ok perfetto ok però vediamo se c'è qualche altra cosa credo di no ok no lei we have to go non va continuare il nostro avventure a quoi faite attention parce que si c'est tardio faite beaucoup 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 d'attention sol sol fa mi oh no allora sto lì bene vero ok forse l'ho sprecato per quel esame certo che questi mangiano pesante po se la prendono con me ai 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 ho fatto non è buono ecco qua eh 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 Grazie a tutti. E con questo, linea allo studio. Oh, meno male. Allora... Ok, questa... ok. Ma in tutta questa, questa sta a zero. Allora, c'è questa qui. Queste sono le potenziate. Oh, caccio. Oh, caccio, caccio. Mi raccomando, non fatelo a casa. Non caccio questo, attoom. Io direi piuttosto di piazzare una trappola lì e... Oh... Oh... Grazie. Grazie. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Mamma mia, speriamo. Los a vivo. Oh. Oh, cazzo. Perché? Va bene. In guardia. Mangi pesante. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Vai, 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 vai. Cori, 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 cori. דte qua Bai, dai, dai, dai Corri, guru, 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 guru… Dai, 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 daí, dai. Corri! 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 Oh! Di qua! Mammo rogarmone! Munizioni per migraiatrice Salviamo Ok Ah! Siamo ritornati nella vecchia casa Siamo tornati nella vecchia casa Ui! Mi ha fatto cagassù Non c'è più! È sparita! È sparita! Non c'è più! Sta là! E 001 Ok Di qua E Qua non ho nemmeno Pronto? Ok Ok Hanno pagato la bolletta Bene Non sono Condomini morosi Oh cacchio Aspetta un secondo Con la stessa Con la stessa rabbia No ok È solamente colpa tua No veramente Ehm Ehm Mi sanno se la che sta diventando pazzo Ehm 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 Ui io non ho fatto niente Fa un cazzo di male No Non tanto Ui Com'è Guarda Pazzo Alla faccia del bicarbonato di sodio Vediamo che dice Elimina Evelyn Con la necrotossina Ok allora Controlliamo qui e vediamo se c'è qualcosa Let's check here If we'll We'll find Anything Ah Presto diventerai uno di noi E forse comincerai a comportarti bene No non voglio essere pazzo No Allontanalò da me Aspetta un aiuto Oh 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 Pazzo Sprecato pure in due proiettili qua Qua è chiuso No E mo Bambolona E qua ci hanno lasciato pure Le luci Ok Ok Mamma 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 Aia Qui non c'è nemmeno Quelle che mi servirebbe Allora Controlliamo un po' Aia 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 Va bene Ok Mamma Allontana un attimo Aia Vabbè 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 Me ne sto andando Vai Vai Lasciami stare Vabbè Non lo farai No Non farlo No 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 E E E' una Sringhetta Qua Tu Azz Perchè Tutti quanti Mio Viano Attiva Fa male Fa male Fa male Dannazione Dannazione Ho la vaga impressione Che boh Sono dolori di pancia Oh caccio mannaggia misera ecco qua organizzo oggetti ma allora vediamo un po' è una parola quella che mi serviva non giusta è pura male mannaggia non c'ho quello che mi serviva mannaggia non c'ho mannaggia 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 si mette veramente male qua eh ma così tu una famiglia però come fai è l'ora della nanna è l'ora c'è rimasto di sasso oh ecco Houston abbiamo un problema passo ciao ma buonasera e benvenuto nel canale nella live scusami se non ti ho salutato prima ma ero parecchio impegnato in una parte abbastanza critica del gioco ah e ancora benvenuto e grazie sono Redfield allora sei salvo ero presa ero preso sull'ultimo monstruo effettivamente ci hanno messo un sacco di tempo per andarmi a recuperarla oh non vedo l'ora di farla finita con questa storia della baby sitter e di tornare dal mio amato marito mi manchi tanto mi manchi tanto anche a me ora devo tornare al lavoro sappi che ti amo Eitan mi manchi morto ti mando un mare di pace 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 Chiuse una porta Saravano fortuna E non solo per me Io e Mia non siamo le sole vittime Ma anche i Baker E' colpa di quella cosa Eveline che li ha resi così Umbrella Ma ora Eveline è morta E la cavalleria è venuta a ripulire il tutto Avevo accettato la scomparsa di Mia La prima volta Ma ora l'ho persa di nuovo E' l'unica dannata porta che vedo Rimane chiusa Ebbene Bello dai Ebbene Sì a quanto pare sì In pratica C'erano due alternative Se salvare Non so se Hai già giocato a questo gioco In pratica Allora ecco qua Dicevo che in pratica C'erano Due alternative E' un bivio In effetti perché E' un bivio E' un bivio Una o l'altra sorella Infatti questa è la seconda volta che la riporto Ok bene E' un bivio Io come sempre A youtube E a tal proposito Il video Questo video E tutti i video Sono disponibili Questo video Sarà disponibile Domenica alle 12 Sì Macho King Alla fine l'ho fatto l'una e l'altra Però si poteva scegliere una persona Quindi diciamo che E' come se le avessi Salvate tutte e due Ok Poi per quanto riguarda E' un bivio Il gioco Se siete interessati ad acquistare Resident Evil 7 Questo gioco Altri giochi scontati Fino al 70% Sia per voi che state guardando Questo video Su Twitch E voi che lo state guardando Su Youtube Nella descrizione del video Troverete alcuni link Fra cui Link per acquistare appunto Questo gioco Altri giochi E giochi Per molti piattaforme Quindi Playstation Xbox Eccetera Scontati fino al 70% Oltre ai link Dei miei canali social E mi farebbe enormemente piacere Se magari Li seguiste O insomma Passaste Per il mio canale Youtube Che è sempre Da blogistica Lasciare un commento Un mi piace E magari Seguire il canale E allora Detto questo adesso Passiamo A Ovviamente Io vi ringrazio Ecco Mi sembrava Che si fosse frizzata Un pochettino La webcam Ok Perfetto Ok Dice Ok L'appuntamento È per venerdì prossimo Con il soft horror Con il soft gaming Di tab logistica E adesso passiamo ai saluti In lingua inglese Thank you so much Everyone For making me a company During this live streaming I hope I have done The same With you During my replay If you are interested To buy this game Or other games Multiplatform You will find In the description Of the videos You can find A few links That are The link Where you can buy Games With a lower price Up to less 70% For pc Multiplatform So for ps4 PS5 Xbox Etc Etc You will find As well Three links That are My social media Channels Thank you so much Thank you so much Please stand by Don't leave After this video You will watch Farming simulator And now please Again stand by Thank you so much Now I will say I will say Thank you To my french friends I was forgetting That our rendezvous With our software Is for Friday Next week Thank you so much Now I will talk To my french friends Thank you so much You will find You will find The link Which are The link For acheter The game A prix Reduit Jusqu'au 70% And then You will find Three links To follow My social channel And I hope You will Make Grandir And If you Have A A A This video S'il vous plaît Laissez Un Like Et Maintenant Je vais Saluer Dans la langue Napolitaine Merci beaucoup Encore Restez Sintonisé Ne quittez Pas la vidéo A suivre Il Il y a La La vidéo De Farming Simulator 19 Merci Beaucoup Alors Voyons Et Comme Sembe Grâce Comme A Vida Fata Compagnie Provis Tu Vierner A Pardonnez-moi J'avais Oublié Que Vous Pouvez Regardez Ce Vidéo Là En Réplique Dimanche À Midi Sur Ma Chaine Youtube Et Vous Allez Trouver Les Lien Que Je Vous Dit Avant Voila Merci Excusez-moi E Allora Voglio Ver Riscordate Da Cosa Allora Mo Dico Prima Allora Rimanete Ancora Sintonizzate Proprio Questa Guarda Questa Replica Non Non Verri Ancora Perché Quando Fornisce Sto Vide Poi C'è Stato Puro Vide Farming Simulator Diciano Allora Ringrazio Innanzitutto Perché Mi Hade Fatta Una Compagnia Puri Stasera Perché Sto Verna Ricca Spero Che Hage Fatta Una Buona Compagnia Puro A Voi Che State Guardando Sto Vide Replica Sia Che Ancora Twitch E Sia Ancora Youtube Si Interessata Vakata Sto Jogo Scondato Ad Jogo Da Descrizione Lo Vide Trovate Link Vakata Jogo Compagnia Rapp E Playstation E Cetera E Cetera Scusatemi E Poi Trovate Trovate Puro I Tre Link Che Sui Canali Mie Social Media Facebook Instagram E Youtube E Se Vi Poi Ci Vi Passate Poi Canale Youtube E Lasciate Un Like E Condividete Sto Video Per Proprio Momento L'appuntamento Per Vierna L'I Prossimo Allora I Grazie Sae Thank you So Much Everyone For Your Precious Company I Hope You Will Enjoy Merci Beaucoup Merci A Tuts Grazie A TUT TUT TUE E STATO BUON Ciao Ciao